Ormai da due anni la scuola primaria di Borgo Santa Maria ha un terzo di istituto bardato di impalcature ma senza lavoro in corso. L'operazione di messa in sicurezza della parte dell'edificio pertinente alla palestra iniziò ma fu poi subito interrotta. Quello che però poteva apparire come uno stop momentaneo è diventato uno stallo prolungato. Stallo che ora finisce sul tavolo del Consiglio Comunale. A portarcelo il consigliere d'opposizione di Prima Cepesaro Emanuele Gambini che nell'occasione si è fatto portavoce del bisogno di delucidazioni reclamato soprattutto dalle famiglie degli studenti. Chiedere il decoro di questi giorni è di moda a Pesaro. Oltretutto a Pesaro la scuola di Via La Marmora è diventata un'eccellenza e l'amministrazione se ne fa un vanto di questo. La scuola di Un Bosco a Villa San Martino sono iniziati i lavori del cappotto e della ristrutturazione. Quindi anche i residenti, i genitori dei ragazzi, le maestre e chi frequenta quella scuola chiede come mai questa scuola è stata lasciata così all'abbandono. Non ci sono segni di inizio lavori o di qualcuno che comunque riprenda i lavori. In questo momento anche il costo delle impalcature ferme lì, sappiamo quanto possano costare le impalcature ferme lì da più di un anno. Anche oggi che c'è questo bonus 110 delle facciate, chi si appresta a fare dei lavori sa quanto sia difficile reperirle. Quindi immagino che anche queste abbiano un costo che vadano oltre ormai a quello che era stato programmato. Quindi da parte mia, da parte viene richiesta questa immediata delucidazione su quello che saranno i lavori e quanto tempo ci vorrà ancora per portarli a termine e ci auguriamo ecco soprattutto che vista l'attenzione che l'amministrazione ha per le scuole che ci sia un inizio dei lavori veloce e a breve. Un lavoro interrotto che stride con quello completato alla precedente ristrutturazione interna dell'istituto. C'è bisogno di chiarimenti ma c'è la diffusa convinzione che senza il murale che troneggia fin dagli anni 80 sulla parete della scuola il cantiere sarebbe già stato ultimato. A fermare le ruspe è stato infatti lo scrostamento di quell'opera pittorica che da 30 anni è una sorta di biglietto da visita all'arrivo a Borgo Santa Maria. Perché nella frazione pesarese c'è stato chi ha fatto notare l'esigenza di una prospettiva di recupero del murale che di fatto ha congelato ogni passo avanti. Ora però lo stallo sembra davvero doveroso dichiarimenti.